Ciao, benvenuti alla quarta parte del assaggiamo tutte queste lattine francesi. L'ultima volta abbiamo assaggiato il Monster con il punch, che sa di punch? E adesso invece assaggeremo questa lattina qua, molto francese. Però mi raccomando, un suggerimento per la vecchia parte, non mangiate più di ciro il gnocco. Voi siete avvisati. E niente, vabbè, andiamo ad aprire. Però mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi. Andiamo ad aprire questa lattina. Ok. Aperta. Ma, colore assolutamente inaspettato. C'è una cosa così, cosa come gli aspettati, che è trasparente. Sembra un po' acqua aromatizzata, può essere. Buono. Così, sembra acqua frizzante, ma al retrogusto di pesca, albicocca, quello che è. Albicocca. E comunque, sì, dai, cinque, voto cinque, è strano, molto strano. Comunque, sì, dai, buonina. Alla prossima.